No, molto bene, anche perché ne avevo, come ti avevo detto, avevo già fatto un libro precedentemente e anche a livello di costi e di servizio voi avete dei prezzi veramente concorrenziali, quindi qualsiasi persona, anche che non ha una grossa attività come io, sono partito fin dall'inizio, la cifra, quindi il servizio e la cifra erano molto importanti. Quindi ho visto la differenza anche tra altre aziende che volevano addirittura anche il doppio della vostra consulenza, del vostro servizio. Quindi io mi sono provato benissimo e quindi spero anche, mi piace la possibilità, anche se non sono un vero scrittore, ma di poter pubblicare anche altri libri. Quindi se avrò bisogno del tuo aiuto sicuramente verrò da te, Emanuele, perché mi sono provato molto bene. Grazie. Grazie.